Trasmessa agli organi di stampa tutta la documentazione che accerta come il presidente del consiglio comunale del corso della seduta consigliare del 31 maggio 2019 mi ha tolto senza alcuna spiegazione la parola dopo sette minuti nel mentre il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ne concede dieci di minuti. A farlo sapere attraverso una nota stampa il consigliere comunale di opposizione del comune di Agropoli Agostino Abbate. Nel corso del consiglio comunale del 31 maggio era in discussione l'argomento numero uno all'ordine del giorno ed era un argomento che riguardava un aspetto finanziario quindi di competenza dell'assessore Roberto Mutalipassi. Quando sono intervenuto la prima cosa che ho detto è stata quella di dire siamo nel cuore di un argomento proposto dall'assessore alle politiche finanziarie il quale praticamente viene da me redarguito questo era il concetto viene da me redarguito perché l'altra volta ci ha accusato di aver abbandonato l'aula quindi per inciso ho aggiunto o aula che abbandonerò ancora oggi ma prima farò questa dichiarazione. Nel mentre io procedevo con la dichiarazione al sesto minuto il presidente del consiglio comunale inspiegabilmente mi richiama ai tempi e io rispondo con molta calma non c'è problema quando lei ritiene di togliermi la parola lo farà e io me ne andrò. Al settimo minuto cioè un minuto dopo il presidente ancora più inspiegabilmente dichiara tempo scaduto e quindi mi toglie definitivamente la parola. A questo punto io ho raccolto le carte che tenevo davanti a me sono passato per il banco della presidenza ho lasciato quelle dichiarazioni e me ne sono andato senza battere ciglio. Dopo un sacco di giorni vengono in approvazione le delibere di quella seduta consigliare. Vado a leggere la delibera di quella seduta consigliare e trovo che il segretario ha scritto in modo sic tet simbriciter abbate preannunce di abbandonare l'aula dopo la lettura di un intervento. Punto. Abbate lascia l'aula alle ore 18 e 15 o 18 e 45 non ricordo bene. A questo punto mi sono permesso di scrivere al segretario e di dire guardi che non ha scritto bene non ha trascritto la delibera in modo corretto perché i fatti sono andati diversamente e lei li sa si può guardare proprio la registrazione appunto di Cirendo Channel per vedere come sono andati i fatti. I fatti sono che a sesto minuto il presidente mi ha tolto la parola mi ha sospeso la parola a settimo minuto me l'ha tolta definitivamente. Queste cose vanno scritte quindi nel verbale e ho chiesto quindi praticamente la correzione di quel verbale. Nel corso del consiglio comunale del 31 maggio laddove i verbali dovevano essere approvati io non sono andato in quel consiglio per tante tante motivazioni che poi semmai dirò in altre serie in altri momenti opportuni anche a questa televisione mi rendo conto guardando la registrazione del consiglio comunale che il segretario comunale aveva tentato una giustificazione tanto comica quanto inutile cioè nella sostanza doveva scrivere che il presidente aveva tolto la parola e si è difeso in mille modi dicendo praticamente che non era assolutamente questo il concetto. Il presidente del consiglio ancora peggio di lui non ha fatto altro che dire si ammetto gli ho concesso minuti meno ma io in altre occasioni non ho capito che cosa ha dato come spiegazione. Fatto sta una cosa soltanto ho capito però che quando il presidente dice allora mettiamo ai voti quindi rivolto praticamente al consesso ha detto allora mettiamo ai voti la richiesta di correzione fatta dal consigliere comunale abbate la maggioranza in modo totale ha spesso parire contrario cioè la mia richiesta di integrazione o di trascrizione diversa non andava accolta non veniva accolta veniva accolta invece quella del segretario comunale. Allora la cosa più grave qual è? Prima il messaggio che aveva arrangiato il presidente del consiglio comunale allorché disse tempo scaduto senza dare motivazione del fatto che mi aspettavano ancora tre minuti di tempo. Quindi un messaggio molto ma molto preoccupante per la città. Allora che cosa ho fatto? Ho scritto immediatamente al prefetto. Al prefetto dopo aver scritto sollecitato ho fatto anche un sollecito ma il prefetto ancora non ha risposto nulla. Quindi in questo momento in cui lei mi sta intervistando colgo l'occasione proprio per questa squisita emittente di fare in modo chiaro ed inequivocabile un comunicato. Cioè il prefetto ha l'obbligo di rispondere al consigliere comunale che cita determinati fatti e se non vuole rispondere al consigliere comunale risponde almeno al presidente del consiglio invitando a redarguire me se io ho sbagliato. Ma questo evidentemente non è nella capacità degli organi sovraordinati fra cui la prefettura di Salerno alla quale mi sono rivolto numerose volte. In ultimo e infine non per importanza il consiglio comunale quando ha votato all'unanimità di dire no tranne l'assenzione del presidente per pura formalità di dire no non approviamo ciò che ha richiesto l'ingegnere Abba il consigliere Abba ma lo sa il consiglio comunale che cosa avevo richiesto? O non lo sa? Secondo me non lo sa perché avevo richiesto trascrive i fatti come sono andati non ho detto devi scrivere così quindi questo è ancora più grave assistere a un presidente del consiglio che toglie la parola in modo inspiegabile assistere ancora a un consesso pieno di consiglieri che approvano ciò che dice il presidente del consiglio senza leggere ciò che aveva scritto un semplice consigliere comunale di minoranza.